La sospensione dell'attacco militare in Siria con l'apertura di un confronto diplomatico ha posto le basi per un rialzo delle borse azionarie. Cosa vi aspettate a livello internazionale in termini di crescita e quali economie state sovrappesando? A livello di crescita ci aspettiamo uno scenario di lenta e graduale ripresa che crediamo accelererà in qualche modo in questa seconda parte del 2013 e dovrebbe proseguire nel corso del 2014. Dando qualche numero ci aspettiamo che la crescita a livello globale per quest'anno dovrebbe attestarsi in un intorno del 2,4% quindi 2,5% e più o meno diciamo in un intorno del 3% per l'anno prossimo. Ovviamente ci sono differenze regionali ovvero gli Stati Uniti a nostro giudizio potrebbero crescere più o meno quest'anno dell'1,5% e 2% l'anno prossimo. L'Europa per quest'anno purtroppo rimarrà in recessione anche se nel secondo trimestre abbiamo avuto appunto dopo sei trimestri consecutivi di contrazione del PIL una prima crescita appunto del prodotto interno lordo a livello europeo a livello annuale le nostre stime però parlano ancora di meno 0,1% l'anno prossimo finalmente vedremo un'espansione però del PIL appunto europeo nell'ordine dell'1%. I paesi emergenti continueranno a crescere, continueranno a crescere più delle aree sviluppate quindi per quest'anno la crescita è più o meno in un ordine del 4% e direi che largo circa con qualche sorpresa al margine positivo a ridosso di un 5% per l'anno prossimo. Considerata la situazione attuale abbiamo ancora bisogno di un safe haven o possiamo iniziare a farne a meno? Diciamo che se parliamo di un safe haven in relazione agli ultimi eventi ovvero la minaccia bellicano siriana sicuramente no nel senso che abbiamo avuto sviluppi positivi in tal senso e quindi quei safe haven che hanno funzionato appunto nel caso della Siria potrebbero probabilmente non essere più tali mi riferisco chiaramente all'oro soprattutto e per certi versi anche al petrolio credo però che nella costruzione di un portafoglio dovendo comunque sempre misurarsi insomma con il tema della diversificazione pur avendo un approccio diciamo cautamente positivo sull'azionario impensabile chiaramente investire tutto sull'azionario e quindi per proteggersi chiaramente dalla volatilità sui mercati azionari un safe haven potrebbero ancora essere diciamo le obbligazioni quali ma direi senza esagerare soprattutto in termini appunto di duration sicuramente direi titoli dell'area europea più i periferici per i quali probabilmente il tema della convergenza con i paesi core è ancora un tema aperto e in occasioni diciamo opportune ancora sul Bund Nelle ultime settimane è stato evidente il cambiamento nei flussi di investimento che è gradualmente tornato verso i paesi emergenti in vista dei prossimi appuntamenti Fed è il caso di ritenerci fuori pericolo da possibili ulteriori ribassi nei confronti dei mercati emergenti? Fuori pericolo no perché credo che oggi tra l'altro è un giorno molto importante stasera ci sarà appunto la dichiarazione da parte della Fed finalmente sul piano di riduzione dell'allentamento monetario credo che i mercati in parte sicuramente abbiano digerito l'inizio di questa riduzione vedremo che cosa appunto dirà questa sera la Fed ma sicuramente siamo all'inizio di un processo che vedrà man mano ridurre la liquidità tanta che è arrivata negli ultimi anni appunto sul mercato e che ha sicuramente beneficiato soprattutto i paesi emergenti attraverso appunto le loro obbligazioni quindi direi che sicuramente diciamo non siamo in maniera completa fuori pericolo sicuramente però la situazione come ricordavo anche all'inizio nei paesi emergenti è molto variegata per cui attenzione sicuramente a fare diciamo stare lontano da quei paesi emergenti in particolare i più esposti chiaramente ai problemi che potrebbero derivare da un minore afflusso di liquidità ovvero i paesi emergenti con elevati deficit di partite correnti mi parla di un po' 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 di uno Grazie.